Questo progetto presentato poi all'amministrazione comunale nel 2012 era stato anche condiviso dall'amministrazione stessa, tant'è che nel tempo, il progetto si chiama I Viali dei Campioni, si erano formati diversi tavoli di lavoro nei quali con i vari assessori deputati, con dei tecnici e quant'altro, si stava cercando anche di risolvere le inevitabili problematiche che un progetto così complesso può comportare. Quindi, adesso senza scendere nei particolari del progetto che prevedeva tra l'altro l'intitolazione di alcune vie, la riqualificazione del vecchio circuito dell'acciaio, la creazione di un museo dei motori, questo fatto di aver intitolato una rotonda a Paolo Pileri, che nel concetto e nell'oggetto è nulla abbiamo da eccepire perché dare il giusto riconoscimento a un campione come Paolo è quanto meno dovuto, ci ha lasciato un po' perplessi perché per un regolamento comunale sappiamo bene che non si può pensare di intitolare più vie o più rotonde o più piazze o quello che sia alla stessa persona. E quindi questo, credo, abbia creato un paletto difficilmente rimovibile, portando questo progetto probabilmente ad essere abortito. La cosa che ci lascia stupiti è che era un progetto condiviso con l'amministrazione. Chi ha proposto l'intitolazione di questa rotonda, chiaramente secondo noi l'ha fatto per un suo tornaconto politico, personale o quant'altro, ma che ci può stare da uomo politico e fare questo ed altro, dispiace se questo va poi a scapito di un progetto come questo, del valore che poteva avere e di quello che poteva rappresentare per la città. Questo è quello che ci ha fatto un po' riflettere e ci ha portato a chiedere delle spiegazioni all'amministrazione comunale, né più né meno.